La biologia è la branca della scienza che si occupa di studiare la vita. All'interno della biologia possiamo individuare un'organizzazione gerarchica. Si parte dall'atomo che è la più piccola entità, un insieme di atomi forma una molecola, una macromolecola, si è di grande dimensione, di grande peso, più macromolecole danno origine agli aggregati molecolari come gli organoli, che insieme formano la cellula, ossia la più piccola unità, la più piccola entità che ha vita. Le cellule formano i tessuti che insieme danno origine agli organi, i quali formano i sistemi. Più sistemi costituiscono un organismo. Tutti gli organismi di una certa specie che vivono in una certa località formano una popolazione. Più popolazioni danno origine ad una comunità biologica e le comunità biologiche insieme a tutto ciò che è inerte, che li circonda, quindi i gas, il suolo, danno origine ad un ecosistema. Per essere definiti organismi viventi, gli organismi devono possedere alcune caratteristiche. crescere e svilupparsi, regolare i processi metabolici, dove con metabolismo si intende l'insieme delle legazioni chimiche ed energetiche che avvengono in un organismo. Devono rispondere agli stimoli, riprodursi, evolversi e adattarsi all'ambiente. Oggi noi sappiamo che gli organismi si evolvono per selezione naturale, ma non è sempre stato così. Infatti la selezione naturale è stata presentata per la prima volta come teoria nel 1859 nel libro L'origine delle specie del naturalista Charles Darwin. La selezione naturale prevede che anche all'interno di una stessa specie nascano organismi diversi fra loro, per mutazioni, per fenomeni di variabilità genetica, e saranno fra questi organismi nati soltanto quelli con le caratteristiche più adatte a vivere in quell'ambiente in quel tempo a riuscire a sopravvivere. E proprio questi organismi allora si potranno riprodurre, riproducendo quindi anche le caratteristiche che li rendono appunto favorevoli alla sopravvivenza. Ecco allora che l'evoluzione non riguarda tanto un organismo quanto una popolazione. Possiamo parlare di sistematica in riferimento alla disciplina che si occupa della classificazione degli organismi viventi e dei fossili. Gli organismi possono infatti essere suddivisi all'interno di categorie, che dalla più ampia alla più restretta sono dominio, regno, filum, classe, ordine, famiglia, genere e specie. A partire da un progenitore comune all'organismo più antico nascono tre domini, quello dei batteri, quello degli archea e quello degli eucarioti. Il dominio dei batteri possiede come regno quello degli eubatteri. Il dominio degli archea, il regno degli archeobatteri. Eubatteri ed archeobatteri sono procarioti, anche se gli archeobatteri hanno alcune caratteristiche che li rendono più somiglianti agli eucarioti piuttosto che ai batteri. Invece dal dominio degli eucarioti nascono quattro regni. Quello dei protisti, che sono organismi piuttosto semplici e possono essere o no fotosintetici. Le piante, fotosintetiche. I funghi, non fotosintetici. E gli animali. Per quanto riguarda il tipo di metabolismo c'è da dire che un ecosistema è autosufficiente soltanto se comprende tre tipi di organismi. Produttori, consumatori e decompositori. I produttori sono organismi autotrofi, cioè in grado di produrre composti organici a partire da materiale inorganico, cioè utilizzano l'energia luminosa per trasformare anidride carbonica e acqua in composti organici e ossigeno. Invece consumatori e decompositori sono eterotrofi, cioè non possono creare sostanze organiche a partire da inorganiche. Mentre i produttori sono le piante verdi, le alghe e i cianobatteri, i consumatori sono gli animali in grado di ricavare energia degradando le molecole prodotte da altri organismi. Invece i decompositori sono batteri e funghi capaci di ottenere nutrienti da sostanze di rifiuto e corpi di organismi morti. Batteri e funghi quindi sono fondamentali affinché queste sostanze nutritive non rimangano intrappolate negli organismi morti e nelle sostanze di rifiuto. Gli organismi possono essere classificati in base a diverse caratteristiche, il numero di cellule, possono essere uni o plughi cellulari, il tipo di energia sfruttata, il tipo di metabolismo, il tipo di dipendenza da ossigeno. La nascita dei primi microscopi permette di osservare la cellula, ma soltanto nel 1839 Schleiden e Schwan giungono a formulare la cosiddetta teoria cellulare. La teoria cellulare sostiene che tutti gli organismi sono formati da una o più cellule, che la cellula è l'unità base della struttura di tutti gli organismi e che tutte le cellule derivano da cellule preesistenti. Ciò a noi sembra banale, ma un tempo non era così. Infatti si credeva alla teoria della generazione spontanea, cioè essendo difficile chiaramente capire come gli organismi più piccoli potessero nascere, si credeva che essi nascessero dal nulla, o meglio, da quello che loro chiamavano principio vitale e non da altre cellule esistenti, ma invisibili ad occhio nudo. Ci fu addirittura uno scienziato che cercò di dimostrare questa teoria. Prese un brodo, lo scaldò e lo coprì con una garza. Notò che dopo un po' di tempo nel brodo erano nati degli organismi. Disse allora che necessariamente, dato che appunto il brodo era stato bollito e che era stato coperto, quegli organismi dovevano essere nati per generazione spontanea. Spallanzani critica invece questa teoria e tenta di confutarla, ma lui che bolle di più il brodo e lo copre con un coperchio viene molto criticato. Gli si dice infatti che bollendo così il brodo aveva ucciso il principio vitale e che impedendo il passaggio di aria i microrganismi eventualmente nati erano poi stati uccisi. Dovete allora arrivare Pasteur per confutare definitivamente questa teoria. Pasteur crea uno strumento caratterizzato da un contenitore per il brodo collegato ad un tubo detto a collo di cigno per via della sua forma. Questo tubo infatti presentava un'ansa che permetteva l'intrappolamento delle particelle più piccole. Lui crea in realtà due strumenti uguali. Nei contenitori mette il brodo e lo fa bollire. Poi in uno dei due contenitori elimina il tubo a collo di cigno e nota che nel brodo del contenitore senza tubo erano nati degli organismi, mentre nell'altro no. Infatti il tubo permetteva il passaggio dell'aria ma l'ansa del collo di cigno bloccava i microrganismi. Ecco allora confutata questa teoria. Nel 1920 un russo e un inglese teorizzano quella che deve essere stata l'origine della vita, ossia loro ipotizzano che in una terra primitiva ad un certo punto furono raggiunte le condizioni necessarie per permettere la formazione spontanea della vita a partire da materia inorganica. Loro immaginavano una terra con atmosfera riducente e priva di ossigeno ed elevate fonti energetiche, tempeste di scariche elettriche, un'intensa attività vulcanica, meteoriti, radiazioni ultraviolette. Nel 1953 Miller fece un esperimento proprio per confermare questa teoria. Lui prese un contenitore e ci pose dell'acqua, acqua che mise a scaldare in modo da imitare gli oceani di un tempo. Il vapore ottenuto da quest'acqua fu fatto passare per un tubo fino al raggiungimento di un altro pallone, nel quale Miller ricreò l'atmosfera di allora con ammoniaca, metano, idrogeno. All'interno di questo pallone creò anche delle scariche elettriche che volevano imitare i fulmini. Il vapore, dopo essere passato per il pallone con l'atmosfera, veniva refrigerato e quindi fatto condensare. Il liquido che si formava era intrappolato in una zona detta appunto ansatrappola, che impediva a questo liquido di rientrare in contatto con l'acqua che imitava l'oceano. Dopo circa una settimana nelle stesse condizioni, Miller osservò che erano stati prodotti alcuni aminoacidi. Cambiando poi la composizione dell'atmosfera, creò anche dei nucleotidi. Quindi dopo la creazione di queste molecole organiche, si capì che queste molecole dovevano essersi aggregate in polimeri e poi anche le macromolecole si dovevano essere aggregate a formare strutture dette protobionti o protocellule. A partire dai protobionti si erano poi evolute le prime cellule che avevano sviluppato un metabolismo e la capacità di replicarsi. Fra i 3,4 e i 3,1 miliardi di anni fa nacquero i primi procarioti anaerobi, perché nell'atmosfera non era presente ossigeno, ed eterotrofi. Però questi organismi iniziano a competere per le molecole organiche che iniziarono a scarseggiare. Quindi si selezionarono gli organismi autotrofi in grado di produrre molecole organiche a partire da sostanze inorganiche. Comparvero gli organismi fotosintetici, quindi si accumulò ossigeno nell'atmosfera circa 3 miliardi di anni fa. Gli anaerobi di conseguenza morirono oppure furono relegati in nicchie prive di ossigeno. Infine comparvero i primi aerobi e fra 2,1 e 1,9 miliardi di anni fa i primi eucarioti. I carboidrati sono macromolecole caratterizzate da monomeri detti monosaccaridi. I monosaccaridi presentano almeno un gruppo ossidrilico OH e un gruppo carbonilico caratterizzato dal doppio legame fra carbonio e ossigeno che si può trovare come gruppo chetonico oppure come gruppo aldeidico. Si distinguono quindi i monosaccaridi chetosi e aldosi. Ma i monosaccaridi possono anche essere distinti in base al numero di atomi di carbonio della catena. Ci sono i triosi, i tetrosi, i pentosi, gli esosi. Fra i pentosi principali abbiamo il ribosio e il desossiribosio che si differenziano perché a livello del carbonio 2, il primo ha legato un idrogeno e un gruppo H, il secondo due idrogeni. Fra gli esosi invece importanti sono il fruttosio che è un chetoso, il galattosio e il che invece sono aldosi. Fra i triosi ricordiamo la gliceraldeide. Due monosaccaridi possono legarsi l'uno all'altro mediante un legame glicosidico che prevede l'eliminazione di una molecola di acqua formando quindi un disaccaride. I disaccaridi principali sono il saccarosio formato da un alfa glucosio e un beta fruttosio legati mediante legame alfa 1,2 glicosidico. Il maltosio formato da un alfa glucosio e un beta glucosio legati mediante legame alfa 1,4 glicosidico. Il cellobiosio formato da due beta glucosio legati mediante legame beta 1,4 glicosidico. E il lattosio formato da un beta galattosio e un beta glucosio legati mediante legame beta 1,4 glicosidico. Ho parlato di alfa e beta perché in soluzione acquosa gli zuccheri tendono ad assumere una struttura ciclica che può essere di due tipi alfa oppure beta. Questo perché la struttura ciclica è un emiacetale o un emichetale a seconda che si parta da un monosaccaride aldoso o chetoso e perché questa struttura è ottenuta grazie ad un attacco nucleofilo di un gruppo OH. Alla fine può accadere che ci sia un OH, quello legato al carbonio emiacetalico o emichetalico, dalla parte del carbonio 6, cioè fuochi dal piano dell'anello e allora si parla di anomero beta. Se invece è dalla parte opposta si parla di anomero alfa. Più di due monosaccaridi legati formano oligosaccaridi se si va da 2 a 10 monosaccaridi oppure polisaccaridi. I polisaccaridi possono avere due funzioni, funzione di immagazzinamento di energia oppure funzione strutturale. Fra i polisaccaridi di riserve energetica ricordiamo l'amido e il glicogeno, mentre fra quelli con funzione strutturale la cellulosa e la chitina. L'amido è costituito da monomeri di alfa-glucosio legati mediante legame alfa-1,4-glicosidico. È formato da due.